L'artroscopia è una tecnica mini-invasiva, prevede l'introduzione attraverso una piccola incisione di 3 mm di un'ottica e quindi attraverso una telecamera l'immagine dell'articolazione, la fattispecie della spalla, apparirà a colori su un monitor. Questo chiaramente permette al chirurgo di venire nell'intimo questa articolazione e di riconoscere anche le lesioni più piccole e di ripararle attraverso altre due piccole incisioni di 3 mm. Chiaramente questo dà dei vantaggi non solo sulla particolarità e la precisione del gesto virurgico ma anche dal punto di vista estetico, ricordiamo che parliamo di tre piccole incisioni di 3 mm e anche disturbi di tutti i tessuti intorno alla lesione non vengono insultati.